Una storia che vivi recentemente con un rifugliato fu con un rifugliato sirio che a appena 25 anni tuvo que huir de su país por el simplegio de haber partecipado a una manifestación pacífica en Siria. Amid Azizayama tuvo que acusar legalmente una serie de países a salir a Colombia donde le fue consedido el estatuto de rifugliato. Al principio fue muy difícil integrarse por el problema de la idioma però siendo un chico tan valioso, in unos mesi ya pudo defenderse con l'español. Obviamente su priorità era buscar un trabajo. En questo lo apoi perché lavorando con comunicazione conosciano una serie di agencias di pubblicità che una di loro reclutò a Amid in sua agenza. Questo ha permitito a Amid tener un nuovo lavoro, una nuova vita, con i nuovi amici e una nuova casa e cominciare una vita in Colombia.